Sì, intanto esprimo la soddisfazione per l'esito felice della vicenda con anche la velocità di intervento da parte delle forze dell'ordine che hanno risolto la situazione. Stiamo parlando di questo incendio del bus con quei ragazzi dentro e ci lascia tutti molti commenti questa cosa. Ho letto adesso sull'agenzia che Autoguidovie, che è l'agenzia che eroga quel trasporto, ha garantito che negli anni non c'era mai stato nessun problema con questo autista di origine senegalese, ma italiano, mi pare da una quindicina d'anni. E quindi si pone il problema alla domanda dell'integrazione, la domanda di quale siano i controlli da fare. Bisognerà approfondire un po' il caso, ecco, mi viene da dire aspettiamo a fare automatismi tra l'origine senegalese di questa persona e il gesto che ha compiuto. Certamente per chiunque guida un autobus, soprattutto se porta dei bambini, ci dovrebbero essere dei controlli frequenti sulla capacità non soltanto di guidare, ma psicofisica, sull'idoneità psicofisica della persona. Ecco, se questa vicenda dovesse farci capire che questi controlli non ci sono, questo per esempio è un tema per la politica, come controllare più e meglio chi fa questo mestiere, indipendentemente poi ovviamente dalla terra di provenienza di chi fa questo mestiere.